Ci occupiamo di Istat, troppe le auto vecchie e inquinanti in circolazione a Napoli, a Bolzano invece la situazione è buona. Nel 2007 il tasso di motorizzazione, ovvero autovetture per mille abitanti, dei comuni capoluogo di provincia era pari a 615,2. E sempre nel 2007, secondo l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, la quota di autovetture Euro 4 era del 26,8% con una presenza di un numero ancora elevato, pari al 49,3% di veicoli vecchi ed inquinanti, ovvero Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Con una quota superiore al 30% di veicoli Euro 4 si registrano solo 13 comuni in tutta Italia e tra questi figurano anche Bolzano e Trento, oltre ad Aosta, Lucca, Reggio Emilia, Pisa, Livorno, Torino, Como, Firenze, Bologna, Roma e Prato. A Napoli soltanto il 14,6% di autovetture ha lo standard di emissione meno inquinante.